Siamo alla Fiera della Sostenibilità, con noi c'è Axel. Ciao Axel. Tu lavori in terra cruda per fare mattoni e cosa altro? Io faccio di origine stufe, stufe in muratura, dove mi servono mattoni. Sì, ho fatto da poco tempo fa, ho fatto i primi mattoni in terra cruda. Li realizzi te? No, di solito compro, poi poco fa ho cominciato a collaborare con i miei clienti, alcuni vogliono, alcuni piace, di fare i mattoni da soli. Così faccio vedere come si fanno e loro si fanno i mattoni con la tiara loro. E fai anche dei laboratori didattici? Sì, direi in frattempo il 60% del mio lavoro faccio tramite i corsi. Insegna la gente come costruire. E questo invece cos'è? Una parete isolante? Sì, questo è un dettaglio di una parete isolante, una parete divisoria che si può mettere interno di una casa. Di una casa che abbiamo noi tutti, normale oppure deve essere già predisposta per questa cosa? O in costruzione? Tutti, ogni casa. Ogni casa? Qualsiasi. E altre lavorazioni che fai particolari? Ma è abbastanza particolari. Senti, un sito internet o una pagina facebook? Sì, sarebbe stufe-darte.it Grazie. Grazie a te. Ciao. Grazie a te. Grazie a te. Ciao.